Vendere oggetti online, come vendere oggetti online? Adesso c'è la moda, no? La roba usata, vedete anche sui social, vedete anche in televisione, abbiamo, sono nate proprio delle applicazioni per vendere la roba usata, c'è la moda del riciclo, dell'auto elettrica, quindi no, c'è la moda di consumare di meno, riuso, riciclo, riutilizzo, ho la lavatrice in casa che non uso più, la vendo, ho la televisione che non uso più, la vendo, no? Con un clic mi fanno il bonifico, arriva il corriere, e anche molto, ci sono, adesso non voglio fare pubblicità, però so che sono molto, aspetta, devo sputare, scusa, ti sputo, io ti sputo, io ti sputo, io ti sputo, allora ci sono proprio delle, scusa lo sfo, ci sono praticamente delle applicazioni che sono nate per vendere le cose online, è una moda, come vendere un prodotto online? La tua macchina instant classic, che fa la muffa in garage, invece che regalarla a un commerciante, provo a venderla a un privato, e la inserziono, ok? Le cose che sono importanti, Il prezzo, che è la cosa principale, e le foto, il prezzo e le foto, cioè sappi una cosa, se metti un prezzo troppo alto non ti contatta nessuno, cioè mettere il prezzo esposto è un'arma a doppio taglio, O sei sicuro del valore? Perché molti mettono dei prezzi, poi dopo sono disposti a trattare al 90% della stima La seconda cosa, la seconda cosa, le foto, l'esposizione del prodotto, ti consiglio la luce solare, mai fare foto contro luce, ok? Mi raccomando, le fotografie sono importanti, un bouquet di fotografie, certe applicazioni ti richiedono 4-5 foto, sono fondamentali per la presentazione del prodotto, E poi il linguaggio diretto, vieni a casa se lo vuoi vendere a domicilio, te lo porto, cioè non giri di parole, cioè il cliente è sempre più furbo del venditore